la partita combattuta perché alla fine tutte e due le squadre hanno lottato fino alla morte però alla fine se te riuscite a spuntarla voi secondo te qual è stata un po' la chiave del vostro successo avete anche sfruttato le rotazioni ampie perché loro erano in poche ma siete riusciti a giostrarvi bene durante tutti i tre set noi siamo in 20 quindi direi che è difficile essere meno di 13 e quindi tanto persone a disposizione questa gioca a vostra vantaggio sicuramente per tutti è una vittoria che vi rilancia in classifica come vedi il resto del campionato grazie 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 grazie